Per me è stata un'esperienza molto importante, molto interessante professionalmente, perché attraverso questa vicenda artistica ho viaggiato all'interno della commedia all'italiana, che è un genere che amo moltissimo, e quindi grazie a mio padre e a tanti attori come lui, cioè attori che provenendo dal teatro, anche se non sempre hanno avuto ruoli da protagonisti all'interno dei film, hanno comunque contribuito a rendere, anche teatrale, a rendere grande il cinema italiano con la loro opera laterale, però importante. Della vivacità, della vitalità, della forza, della potenza, del suo fisico anche, era una meraviglia, e poi la simpatia, e poi il modo di comunicare con tutti, essere sempre gioioso, felice, allegro, buonissimo. Buonissimo! I primi giorni di lavorazione uno stava un pochino intimidito, io lo ammiravo, e lui di una gentilezza, mi proteggeva, è proprio carino, è un ricordo magnifico. L'attore era un attore bravissimo, un attore che se fosse nato in America, arriva avuto molto più di un Oscar, ed era bravo soprattutto nel duplicarsi, la comicità sul cinema, il dramma, la citazione drammatica sul teatro. Al teatro è arrivato un po' in ritardo, perché aveva cominciato la carriera già da prima, però fu sempre un teatro con la T maiuscola, il teatro di Strei, il teatro dei grandi attori, dei grandi autori. Credo che il cinema e il teatro italiano gli debbano molto, e fanno bene a ricordarlo con una manifestazione come questa. Le racconto una scena stupenda che è rimasta impressa nella mia memoria, e che penso che difficilmente verrà cancellata. Allora dovevamo girare una scena, io, Mario Carotenuto e Andrea Checchi. Era una specie di trappola per Mario Carotenuto, il quale si doveva nascondere sotto il letto, perché abbiamo fatto finta che Andrea Checchi era mio marito, per cui io in Gheppier sul letto di Mario Carotenuto, lui sotto al letto e Andrea Checchi che entrava e diceva dov'è, dov'è, e io gli dicevo, lui faceva vieni fuori, Carotenuto che era bello, che era sottello, per uscire da sotto al letto. Ci ne voleva, per cui si sbottonava tutto, gli occhiali andavano per traverso, i capelli tutti dritti, tirava fuori la testa così, ci guardava, sembrava una foca. A quel punto quando ci guardava tutti e due, ci guardavamo tutti e tre, si scoppiava in una risata irrefrenabile. Avremmo girato questa scena, penso, come minimo, minimo 10-12 volte. Alla fine il regista Petroni ci ha cacciato via con tante di quelle parolacce, ci ha cacciato via tutti e tre e siamo andati via a mangiare. E la scena purtroppo si è girata nel pomeriggio verso sera tardi perché non riuscivamo a fermarci. Quando era il punto che lui tirava fuori la testa e ci guardava, non era possibile resistere tutti e tre a ridere. Il mio trucco, gli occhi neri si erano squagliati tutti, c'era tutto nero sul viso, per cui questa per me è una delle cose più belle che mi è rimasta impressa di Mario Carotenuto. È stato un grande amico. Mi ricordo quando ballavamo rock and roll, al Sistina veniva giù il teatro. Il teatro, perché poi le coreografie erano di Hermes Planck, che è stato il coreografo di Ginger Rogers e Fred Astaire. Kramer scrisse le canzoni, io cantavo domenica e sempre domenica. E lui cantava come te muovo e te fulmino. No, è stato bello. Nacque una bellissima amicizia. Poi ci siamo ritrovati a distanza di qualche anno di lavorare insieme nel film di Franco Giraldi, colpita da Improvviso Benessere, dove lui faceva sempre mio padre, dove lui faceva il macellaio e io la pescivendola. E tutto qua. Quindi è un ricordo bello. Mario Carotenuto non è forse conoscitissimo, perché tutti conosciamo il volto, sono sicura anche le nuove generazioni, perché rivedono i film, eccetera, ma non si fa il vocevolto, non si accosta il nome. Questa è in realtà la grande caratteristica di tutti i caratteristi italiani che hanno fatto grandissimo il nostro cinema, ce l'hanno riempito, non lo fanno sentire vuoto, perché c'è un coro di grandi attori che comunque hanno lavorato non sempre da protagonisti, ma che sono stati la ricchezza di quel cinema. E quindi lo ringraziamo anche per questo. è un modo di festeggiare la ricchezza dei caratteristi italiani nella speranza che ritornino, che non tutti vogliono fare il protagonista, lo scrittore, l'attore e anche il regista. In realtà lui era anche un grandissimo attore e quindi era, diciamo, un po' stretto come caratterista, però il suo fisico, con gli occhialoni, la panza, lo facevano subito caratterista. Era il piccolo borghese romano che sta facendo carriera negli anni del boom. Mario ha fatto con me, o io ho fatto con lui, due film. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo, era un uomo di grande simpatia, di grande intelligenza. oltre al rapporto sul set, poi ci vedevamo anche, siamo andati a mangiare insieme più di una volta. Come posso dire, era un attore nel senso vero della parola. Cioè perché non era un attore, era talmente spontaneo, talmente lui stesso sempre, che era veramente, credo, uno dei migliori che abbiamo avuto. Lo conoscevo, gli siamo incontrati spesso, perché frequentando il mondo dello spettacolo c'erano diverse occasioni. Ed era una persona, tra l'altro, molto affettuosa, per cui non se la tirava. Un saluto a Mario Carotenuto e alla figlia Claretta, che è degna figlia del padre. Grazie.